La Sardegna sarà suddivisa amministrativamente in sette province. Oltre alle quattro storiche, Cagliari, Sassari, Nuore e Oristano, ci saranno anche quelle della Gallura, dell'Ogliasta e del Sulciso Iglesiente. Sembra questo l'orientamento della Giunta regionale e dell'assessore agli enti locali, Quiglico Sanna, che sta elaborando la riforma. Si va verso la creazione, pertanto, di sette province. L'orientamento della Giunta regionale è stato confermato nei giorni scorsi, nel corso delle audizioni tenute dalla Commissione Consigliere Autonomia del Consiglio regionale, preseduta da Pierluigi Saiu. Una riforma degli enti locali che prevede anche la reintroduzione dell'elezione diretta degli organismi politici, degli enti intermedi, questo al fine di stituire un collegamento diretto tra gli amministratori e i cittadini. Alla riforma degli enti locali, la Giunta Solina si intende affiancare anche quella della sanità, con la creazione dell'Ares, l'azienda regionale della salute, che prenderà il posto dell'ATS e delle Asele territoriali, che a questo punto potrebbero coincidere con il numero di province. La riforma, il cui testo dovrebbe approdare prima nelle commissioni competenti e poi in Consiglio regionale, mira anche a dare risorse effettive agli enti intermedi e comuni, questo al fine di consentirli di adempiere alle competenze che la normativa gli assegna.